Questo è il canale delle missioni cristiane internazionali avventisti del settimo giorno movimento di riforma. Ricorda di seguire la nostra programmazione tutti i giovedì alle 19, il venerdì alle 20 e 30, il sabato alle 11 e 15 e la domenica alle 16. Ricorda di iscriverti al canale per essere aggiornato su ogni prossimo video. Seguici anche sul nostro sito www.avventismo.com dove troverai ulteriori contenuti e tutte le informazioni per contattarci. Grazie e buona visione! Bene, cari signori, vogliamo meditare la parola di Dio e vogliamo leggere dei versi nel Rangelo di Giovanni, capitolo 5. È una storia che già conosciamo. L'Angelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 2 in poi. In Cerro a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'era una piscina detta in ebraico di Bethesda che ha cinque portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. Ma agli occhi del Salvatore si presentò una scena particolarmente triste. Si trattava di un uomo malato da 38 anni. Abbiamo idea di quanti siano i 38 anni? A parte i ragazzi li abbiamo superati tutti i 38 anni, però sono una parte considerevole della nostra vita. se vogliamo sono anche 13.870 giorni. Io le rapportate alla mia malattia. Nella mia malattia ho trascorso più o meno 38 settimane. Quindi potremmo dire 38 anni, una vita intera. La testimonianza dice che la sua malattia era in gran parte causata da colpe di cui si era macchiato e veniva considerata come un giudizio di Dio. Quindi vediamo che era paralitico da tanti anni, quindi era più grande. Possiamo pensare che avesse almeno 60 anni? Forse anche di più. Quindi c'erano delle colpe che lui aveva commesso peccato, aveva sbagliato. Nella parola di Dio non troviamo l'elenco delle sue colpe, ma ci fa comprendere che la sua situazione ha una causa ben precisa. Le colpe di cui si è macchiato hanno prodotto una malattia paralizzante. In effetti che cosa leggiamo nella lettera di Paolo ai Romani, capitolo 6, versetto 23? Quindi il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. Quindi come conseguenza del peccato abbiamo la morte. Se abbiamo la morte possiamo anche accettare che la conseguenza del peccato può essere anche una malattia, una sofferenza. Dall'altra parte possiamo anche affermare che se la grazia di Dio cancella la morte è in grado anche di cancellare la malattia. nel pensiero ebraico la malattia era sempre la conseguenza di una trasgressione. Pertanto davanti a un uomo malato il primo pensiero era chissà quali peccati avrà commesso. Era così radicato questo pensiero che una volta chiese da Gesù, ma quest'uomo che è nato cieco, ha peccato lui o hanno peccato i suoi genitori? Avevano questo dubbio. Gesù rispose non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma questo è avvenuto finché fosse manifestata la potenza di Dio. Quindi a volte ci sono altre cause di cui noi non siamo consapevoli. ancora oggi la scienza medica conferma che molte malattie fisiche o psichiche hanno origine in noi stessi. O per meglio dire alcune malattie non sarebbero avvenute se noi avessimo adottato uno stile di vita sano a 360 gradi. Cosa può aspettarsi un fumatore, un alcolista, un drogato? Che polmoni, fegato o altre parti del corpo vengono compromessi. quest'uomo, la testimonianza dice, è tratta dalla speranza dell'uomo, solo, senza amici, sentendosi lontano dalla misericordia di Dio. Non sentiva neanche la vicinanza di Dio. Dice, questo afferente aveva passato lunghi e terribili anni di miseria. Che sì, perché non potendo neanche svolgere un'attività lavorativa, anche la sua condizione economica ne ha risentito. Qual era la sua speranza? Potersi immergere nella piscina nel momento in cui le acque venivano agitate dallo Spirito di Dio, perché il primo che vi entrava guariva da tutti i suoi malattie. La parola di Dio non dice quanto tempo quest'uomo era lì, sul bordo della vasca. Dice che i suoi amici lo mettevano sul bordo della vasca quando più o meno si pensava fosse giunto il momento, ma poi sul momento opportuno non c'era nessuno. Leggiamo il versetto 5 e 6 di Giovanni 5. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse, vuoi essere guarito? L'infermo gli rispose, signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata e mentre io vado un altro vi scende prima di me. Questo uomo voleva essere guarito e spiega il motivo, dice io non ce la faccio ad arrivare prima degli altri. Quindi quando Gesù arriva, un volto amico, un volto dolce, che si china verso di lui e gli dice, ma tu vuoi essere guarito. Vediamo che la mente di quest'uomo viene attirata da questa voce e nel cuore comincia a risvegliarsi una speranza. capisce che Gesù in qualche modo lo avrebbe aiutato, anche se ricordava tutte le volte che i suoi tentativi erano falliti, quelli di mettersi nella vasca. È significativo anche questo rigore di testimonianza. Ormai gli rimanevano poche possibilità di continuare a vivere. Nella sua malattia era arrivato vicino alla morte. C'erano poche speranze. Se magari è una malattia che non è molto degenerativa, tu sei malato, aspetti, 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 ma si avvicina anche il momento della morte. Gesù non chiede a quest'uomo di chiedere in lui, ma semplicemente risponde, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammino. La frase che Gesù ha ripetuto un paio di volte. La testimonianza afferma, per fede, la fede di quest'uomo, accetta queste parole e i nervi cominciano a prendere vita e la forza della guarigione, raggiunge i suoi arti, le sue membra storpie. Senza fare nessuna obiezione, obbedisce all'ordine di Dio, all'ordine di Gesù. I suoi muscoli rispondono alla sua volontà. Balzando in piedi si ritrova un uomo in grado di operare. Nella mia malattia, dopo essermi risvegliato dal coma, anche se era un coma indotto, essendo in grado di muovere le braccia e anche le gambe, era illuso che quando mi avrebbero staccato il respiratore, mi mettevano in piedi e avrei cominciato a camminare. Ogni sera mi addormentavo con questa speranza, con questo sogno, ma quando finalmente è arrivato il momento e con l'aiuto della terapista mi sono seduto sul letto e poi mi ha messo in piedi, ho preso coscienza che non ero in grado di fare nulla. E quanto tempo ci vuole prima che ritornerò a camminare, non dico a correre, ma almeno a camminare. Ecco che una nuova fase era davanti a me. Ho dovuto imparare nuovamente a camminare, come un bambino, ma nel corpo di un adulto, il che complica le cose, perché le proporzioni non sono le stesse. Dopo altri giorni, con il sollevatore mi hanno messo sulla carrozzina. Ho resistito solo pochi minuti. ho dovuto chiedere di sdraiarmi nuovamente al letto. Ero diventato dipendente dal letto. Ma Gesù disse, al versetto 8, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammini. L'uomo fu guarito in quel momento. Prese il suo lettuccio e si mise a camminare. E la Bibbia aggiunge, e quel giorno era sabato. Una complicanza per gli israeli. Per effetto delle parole di Gesù, che l'uomo che per giorni, anni, decenni era malato, in pochi secondi, divenne sano. Quale grande miracolo. Mediante la stessa fede che ha permesso a questo uomo di essere guarito, anche noi possiamo ricevere la guarigione spirituale. Il peccato ci ha separati dalla vita di Dio. Il nostro spirito è paralizzato. Siamo incapaci di vivere una vita santa. Così come quel paralitico non era in grado di camminare, molti di noi si rendono conto di non riuscire a fare niente. E desiderano essere nuovamente in comunione con Dio. Si cerca di fare qualcosa con i nostri sforzi, ma ci rendiamo conto che non sono sufficienti. Paolo dice, è Romani, 7,24. Miserome uomo, chi mi trarrà, chi mi libererà da questo corpo di morte? Giunge questa domanda. Ma tu vuoi essere guarito? Gesù ci ordina di alzarci. Guariti e in pace. Non aspettate di sentirvi guariti. Credete nella Sua parola e siete imperati. Deponete la vostra volontà ai piedi di Gesù. Agite secondo la Sua parola, riceverete forza. Prosegue. Qualunque sia la colpa. Qualunque sia la passione che a lungo tempo è stata dentro di voi e che ha sottomesso l'anima e il corpo, comunque Cristo può liberarci. Egli ha dato la sua vita all'anima morta nei peccati. Libererà colui che è prigioniero dal peccato. Vediamo che si adempie la promessa fatta di Isaia 1, 18. Leggiamo questo verso. Profeta del libro di Isaia, capitolo 1, versetto 18. Chi me lo legge per favore? Isaia 1, 18. Sì, grazie. Qual è l'invito di Gesù? L'invito di Dio? Venite, discutiamo, litighiamo insieme, chiariamo. E io prometto che se anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto o come la porpora, diventeranno bianchi come la neve, bianchi come la lana. Saranno totalmente cambiati. in libro di Giobbe, capitolo 2, versetto 8, leggiamo un'altra esperienza. Giobbe 2, versetto 8, versetto 10. Robici 6. Giobbe 2, da 8 a 10. Giobbe 2, da 9 a 10. allora sua moglie dice rimane ancora fermo nella sua incredibilità se le dici di io e muore ma è di se lei tu parli come salverete una donna insensata e dal via cerchiamo il vero perché non dovremmo stare a fermare di tutto questo Giobbe non c'è scopo l'è scopo, l'è scopo Sì, grazie Vediamo quindi che Giobbe nella sua malitudine nella sua esperienza negativa ha dovuto sentirsi dire anche dalla persona che era più accanto, più vicino a lui ma male dici Dio e muori ma Giobbe nonostante fosse sofferente dice qua prende un coccio un pezzo di cieli, un vaso per grattarsi tanto era il prurito prodotto dalle sue ulcere dice ma tu sembri una donna insensata come da Dio accettiamo il bene dobbiamo accettare anche il male e il pensiero si conclude dicendo in tutto questo Giobbe non peccò facciamo un'altra domanda a noi stessi da quanto tempo abbiamo fatto il patto con Dio? abbiamo parlato stamattina poco fa di persone che vogliono fare un patto del Signore ma noi che siamo più avanti in questo cammino quanto tempo è passato da quando abbiamo fatto un patto con Dio personalmente sono quasi 35 anni diciamo che manca poco a 38 qualcuno avrà sicuramente superato anche questa cifra qualcuno un po' indietro ognuno di noi ha una risposta diversa forse qualcuno desidera addirittura ancora farlo ma in tutti questi anni quali sono stati i nostri progressi? se noi osserviamo un olivo un arancio un qualsiasi albero dal giorno che lo piantiamo e facciamo passare 38 anni vedremo una grande metamorfose o se prendiamo una quercia una piantina piccolina ma entro 80 anni diventa un albero grande maestoso se noi osserviamo le piante rimarremo scoraggiati la folta chioma ci fa comprendere che probabilmente la nostra fede è malata forse non siamo alberi normali forse noi siamo dei bonsai questi mini alberi che rimangono sempre così da mettere nel comodino o nel comò ma la parola di Dio ci dà un altro esempio non dice che siamo una quercia non dice che siamo un arancio non dice che siamo un limone andiamo nel libro di Giovanni Evangelio di Giovanni capitolo 15 versetto 5 leggiamo questo verso Giovanni 15 5 grazie Gesù ci paragona lui dice io sono la vita io sono il ceppo voi siete i tralci un rango se voi dimorate me io in lui porterà frutto questa è la caratteristica queste sono le aspettative di Dio ma senza di me non potete fare nulla Gesù non pretende che noi siamo delle querce ci paragona il tralcio di una vite noi rappresentiamo il tralcio nelle coltivazioni moderne possiamo osservare che a ogni vite corrispondono tre o quattro tralci a seconda del vigore della vite e nel corso dell'anno verranno i frutti i tralci non vengono apprezzati per la loro bellezza ma per la loro capacità di portare frutto in un tralcio ben nutrito legato a una vite sana può portare anche 10 kg di frutta di uva qual è la frutta che il Signore si aspetta dal nostro tralcio leggiamo un verso conosciuto nelle lettere di Paolo ai Galati capitolo 5 versetto 22 Galati 5 22 grazie abbiamo nove caratteristiche il frutto dello spirito in che misura il nostro tralcio o il traccio che noi rappresentiamo è ricoperto dal frutto dello spirito un vigneto viene sdradicato viene sostituito dopo circa vent'anni ma una singola vita può vivere molto di più ma quanto può vivere un tralcio senza portare frutto ritorniamo in Giovanni capitolo 15 versetto 2 e troviamo la risposta il tralcio che non porta frutto è un'operazione che ogni anno è necessaria è la potatura i tralci che portano frutto vengono accorciati affinché possa portare ancora più frutto il tralcio che non porta frutto viene tagliato viene bruciato con molta probabilità noi siamo quindi in una situazione tragica da diverso tempo il nostro tralcio non porta frutto sarebbe da tagliare da portare via da troppo tempo noi siamo paralizzati ed ecco che Gesù oggi ci sussurra vuoi essere guarito? qual è la nostra risposta? torniamo alla storia del paralitico la testimonianza dice il paralitico guarito prese il suo letto una semplice stuoia e una coperta e mentre avvertiva in sé una bellissima sensazione di forza cercò con lo sguardo il suo salvatore ma Gesù era sparito in mezzo alla forza quest'uomo ha avuto pochi secondi obbedire all'ordine di Gesù raccogliere le sue cose cerca Gesù non c'è più Gesù è venuto da noi ci ha guarito e ha proseguito il suo cammino noi presi dall'uferia e dallo sbigottimento per quello che è accaduto non lo abbiamo neanche ringraziato non abbiamo avuto il tempo e cosa ancora più grave non siamo neanche in grado di riconoscerlo se lo incontriamo perché non abbiamo memorizzato il suo viso torniamo in Giovanni capitolo 5 versetto 10 e leggiamo il proseguo di questa storia i giudei perciò dissero a colui che era stato guarito è sabato non è lecito portare il tuo lettuccio quest'uomo rispose ma colui che mi ha guarito mi ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina allora versetto 12 gli domandano chi è quell'uomo che ti ha detto prendi il lettuccio e cammina ma colui che era stato guarito non sapeva che egli fosse perché Gesù si era allontanato a motivo della porta nella sua gioia quest'uomo non aveva solo dimenticato di guardare bene Gesù aveva dimenticato che era anche sabato perché lui sapeva che di sabato non era consentito secondo gli ebrei portare il letto ma lui non si sentiva in colpa per aver obbedito a un ordine superiore colui che mi ha guarito mi ha detto prendi le tucce e cammina non è stata una indecisione mia i farisei i farisei gli chiesero chi fosse quest'uomo lui non lo sapeva i farisei però sapevano benissimo chi poteva compiere un miracolo del genere non era il primo miracolo che Gesù faceva né a Nazareth e neanche in giorno di sabato ma loro volevano semplicemente una conferma e noi siamo in grado di riconoscere colui che ci ha guarito siamo in grado di descriverlo o anche noi non abbiamo fatto la dovuta attenzione la storia prosegue al versetto 14 5 e 14 più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse ecco tu sei stato guarito non peccare più affinché non ti avvenga di peggio è Gesù che ha ritrovato quest'uomo Gesù ritrova incontrò nel Tempio l'uomo che era stato guarito la testimonianza aggiunge quest'uomo era venuto a portare un'offerta per la colpa e una di ringraziamento per la grazia ricevuta quest'uomo non sapeva chi doveva andare a ringraziare ma secondo la conoscenza che aveva sapeva che doveva dire grazie a Dio e quindi porta un'offerta per la colpa quindi un animale da sacrificare e un'altra offerta per ringraziare il Signore di quanto aveva ricevuto è qui che Gesù si fa riconoscere ecco sei stato guarito non peccare più perché non ti accada di peggio lui non era in grado di conoscere Gesù ma da poi in Israelita sapeva qual era il suo compito e andò a ringraziare il Signore e il Signore gli ha dato l'opportunità di ritrovare colui che lo aveva salvato e così dice quell'uomo se ne andò e poter riferire ai Giudei che era Gesù colui che lo aveva guarito Gesù a questo punto fu portato davanti al Sinese con l'accusa di essere un trasgressore del quarto comandamento perché aveva trasgressato il sabato era chiaro per tutti dice la testimonianza conferma di quanto abbiamo studiato anche stamattina se in quel momento gli ebrei fossero stati liberi un'accusa simile sarebbe stata sufficiente per condannarlo la morte Dio stesso aveva ordinato a Israele il giorno di sabato non uscite a raccogliere la mamma e qualcuno che andò fu sterminato dal popolo di Israele ma in questo frangente la dipendenza di non essere un popolo libero di dipendere dai romani non gli permettè di poter attuare il loro piano la guarigione di quell'uomo aveva provocato la rabbia dei farisei che desideravano uccidere Gesù ma Gesù era venuto a liberare il mondo da quelle pesanti prescrizioni che lo trasformavano da benedizione in maledizione per questo motivo aveva deciso di andare a Betesta in giorno di sabato poteva compiere questa guarigione in qualunque giorno della settimana poteva guarirlo senza dirgli di prendere il lettuccio ma così non si sarebbe ad infiuto bene il miracolo ogni azione di Gesù sulla terra aveva un'intenzione positiva tutto quello che lui faceva aveva un insegnamento per noi quando lui arrivò alla vasca tra tutti i sofferenti scelse il caso più 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 forte il caso più disperato e ordinò all'uomo di prendere il letto e andare in giro per la città perché doveva attraversare la città per tornare a casa sua affinché tutti sapessero la grande opera che era venuto a compiere un uomo che camminava non dava nessuna nessuna meraviglia un uomo che portava un letto dava una grande meraviglia soprattutto perché era il giorno di sabato nei giorni della settimana chissà quante persone avevano dei carichi sulle spalle nessuno lo avrebbe visto ma Gesù ha fatto questo affinché fosse manifestato qual era il suo potere il potere del figlio di Dio Gesù ha dato questo esempio per far comprendere che l'opera in favore degli afflitti era in armonia anche con il sabato e anche con gli angeli del cielo che per soccorrere l'umanità sofferenza vanno e vengono continuamente dal cielo sulla terra o forse il Signore dovrebbe ordinare al sole di fermarsi durante il sabato impedendo i suoi raggi di riscaldare la terra e nutrire la vegetazione forse gli astri devono fermarsi in questo giorno santo dovrebbe ordinare i ruscelli di fermarsi di scorrere nei campi e nelle foreste o alle onde del mare di fermarsi dal loro continuo flusso e riflusso dovrebbe forse il grano interrompere di crescere o il grappolo di maturare per ritardare la sua maturazione gli alberi e i fiori dovrebbero in giorno di sabato rinunciare a produrre gemme e boccioli ma se fosse così gli uomini perderebbero i frutti della terra e perderebbero anche le benedizioni che allietano la nostra vita il corso della natura deve continuare quindi dice la testimonianza chi trascure di aiutare queste persone malate in giorno di sabato non è senza colpa quindi non solo è lecito ma è dovuto perché il sabato è fatto per l'uomo e non viceversa dice le opere di assistenza sono in perfetta armonia con il suo significato Dio non vuole che le sue creature sopportino una sofferenza che potrebbe essere alleviata di sabato come in un qualsiasi altro giorno oggi Gesù rivolge a noi la stessa domanda rileggiamo l'episodio mettendo il nostro nome al posto di quell'uomo versetto Giovanni 5,5 c'era là Stefano infermo da 38 anni Gesù vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo disse vuoi essere guarito Stefano gli rispose signore io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata e mentre io vado un altro vicende prima di me Gesù gli disse alzati prendi il tuo lettuccio e cammini Stefano fu guarito in quel momento prese il suo lettuccio si mise a camminare e quel giorno era sabato i giudei dissero veniamo a te per ringraziarti di questa opportunità che ci hai dato di essere qui alla tua santa divina presenza grazie del tuo messaggio aiutaci signore a prendere coscienza della nostra situazione grazie per quello che hai fatto per ognuno di noi e aiutaci a esserti riconoscente aiutaci a essere un tralcio fruttifero affinché anche altri possono vedere le tue meraviglie che possono venire a te con cuore contrito fa che possiamo essere una testimonianza vivente di quello che tu compi in ognuno di noi benedice ognuno di noi qua presenti benedice coloro che sono collegati coloro che sono lontani isolati fa che tutti possano sentire la comunione con te tramite i tuoi santi angeli in particolare ti raccomandiamo i fratelli e gli interessati che si trovano in un territorio di guerra fa che possono avere pace almeno per questo giorno vuoi tu prendere le sorte di tutto e vuoi tu guidarci nella nostra preparazione affinché possiamo essere pronti nel giorno del tuo ritorno vuoi tu essere ancora con coloro che sono nella malattia fisica e spirituale ma che possono essere guariti da noi la forza affinché possiamo fare la nostra piccola parte e tu puoi compiere il miracolo della guarigione il miracolo della conversione fa che possiamo venire a te con cuore contrito possiamo chiedere perdono dei nostri peccati e possiamo riconciliarci gli altri in un unico corpo come tu hai stabilito non meritiamo nulla ma ti volgiamo di grazia per i miei del tuo figliolo Gesù che è morto per noi sulla croce amén amén stando in piedi invochiamo la benedizione del Signore voi benedirete così figli di Israele direte loro l'Eterno ti benedica e ti custodisca l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te ti sia propizio l'Eterno rivolga il suo volto su di te e ti dia la pace amén